Una delle prerogative specifiche dei musei scientifici è quella di non offrire soltanto dei percorsi espositivi, ma di offrire attività educative al pubblico. Si discute ancora domani alla Stazione Marittima del ruolo dei musei scientifici, soprattutto in un momento di crisi come quello in cui stiamo vivendo. E sorprendentemente, ma neppure tanto, il convegno promosso dall'Associazione Nazionale Musei Scientifici inquadra una serie di realtà decisamente in forma, a livello nazionale e locale, grazie a novità introdotte con una certa vedutezza. Le istituzioni museali non sono soltanto dei luoghi espositivi, ma sono delle strutture che hanno una valenza sociale particolare, dal momento che sono luoghi di incontro, luoghi di ritrovo, luoghi di partecipazione anche del pubblico, che si aspetta dal museo scientifico non soltanto un'esposizione, ma un qualcosa di più. Cerchiamo di rendere sempre più aperti, sempre più multidisciplinari, ospitando tantissime cose da mostre culturali, mostre di pittura, ad esempio nell'altrame del Museo di Storia Naturale abbiamo ospitato una mostra della pittrice di Lanna Pers che è stata molto seguita, anche a cose molto più semplici come i bambini che possono fare i loro compleanni all'interno del museo o i pizza party ad esempio. I risultati fra l'altro sono in qualche modo certificati. Il Museo del Mare, il Museo di Storia Naturale è già il secondo anno consecutivo che vinca un certificato d'eccellenza TripAdvisor come attrazione turistica della regione, quindi a questo punto di vista siamo molto contenti. Certo, i musei rimangono degli uffici di un ente locale, del Comune di Trieste in questo caso, e quindi sperimentano tutti i tipi di tagli e restrizioni che adesso hanno gli enti pubblici. In un panorama che nonostante tutto rimane caratterizzato da determinate difficoltà, quantomeno per i musei scientifici triestini, ma il discorso si potrebbe estendere dal punto di vista tematico e persino geografico, si rende necessario una sorta di proficuo ritorno agli origini, in altre parole cercare partner privati. Essendo un museo pubblico non possiamo certo chiedere un grosso aumento di finanziamento al pubblico, possiamo però chiederlo ai privati. Credo che l'esperienza soprattutto estera sia che moltissimi musei hanno una forte partecipazione a qualche privato che poi in realtà è un ritorno al mecenatismo che ha creato i musei, perché quasi tutti i musei sono nati da mecenati, Anzi, il Museo Civico di Storia Naturali di Trieste, lo ricordo, fu fondato da un commerciante numismatico svizzero, Henry Koch, a Trieste.